Anticipazioni in segreto. Venerdì 21 agosto 2020. Ippolito continua a nutrire grossi dubbi sul suo lavoro di fotografo. Mercedes indaga sul passato del Marchese e scopre che aveva una sorella che si è suicidata perché è abbandonata all'altare da Salvador Castro. Emilia scopre le vecchie lettere tra suo padre Raimundo e Donna Francisca e vuole assolutamente saperne di più. Dopo un parto complicato il bimbo di Angustias e Tristan è finalmente venuto al mondo ma il piccino non è in buona salute a causa di grossi problemi circolatori e respiratori. Il dottor Guerra spiega a Tristan che non è completamente fuori pericolo. Intanto Soledad e il Marchese firmano il loro accordo con conseguente cessione al nobile di metà dell'eredità aspettante alla giovane. Mariana vorrebbe tanto rivelare a Soledad che Juan è vivo e chiede consiglio ai suoi fratelli. Francisca riesce a convincere Sebastian a partecipare al ricevimento di inaugurazione della fabbrica conserviera organizzato lo stesso giorno della festa che Raimundo ha indetto per celebrare la sua vittoria alla fiera. Emilia è gelosa di Pepa e dell'interesse che Alberto Guerra nutre nei suoi confronti. Tristan è preso dal figlio appena nato e rimanda le promesse fatte all'allevatrice. I due innamorati però riescono a chiarirsi e vengono sorpresi dal dottore in un momento intimo.